Buongiorno e benvenuti a questa pillola formativa che conclude il percorso della formazione ideata all'interno del progetto europeo LifeWi, un progetto che è stato predisposto e vinto insieme alla Camera di Commercio di Firenze da Regione Toscana, ANCI Toscana e CoServe dell'Università degli Studi di Firenze. Si tratta di un percorso molto interessante e molto lungo perché nasce da settembre 2017, un percorso che ci ha portato a incontrare tantissime imprese. Questa formazione è proprio rivolta alle imprese che si trovano a gestire dei rifiuti particolari, i RAI, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di rifiuti estremamente preziosi, infatti il nostro progetto Life si chiama LifeWi, tesori da recuperare, perché questi rifiuti sono per il 96% recuperabili. Si tratta di ricchezze che dobbiamo imparare a gestire. La normativa ambientale è estremamente complessa e molto spesso le imprese ci dicono che si trovano in difficoltà a interpretare e a attuare quello che la norma impone loro. Questa pillola è un modo, speriamo semplice, di venire incontro alle imprese che devono imparare a gestire questi rifiuti. Il LifeWi è un progetto che si concluderà a breve, ma speriamo possa continuare nell'esperienza delle imprese che noi abbiamo iniziato a sentire già nel 2017 con un primo sondaggio in cui a 47.000 imprese toscane abbiamo chiesto di dirci quello che loro sapevano su questa normativa. Fu abbastanza disastroso il risultato perché venne fuori una non conoscenza della gestione dei RAI, dei rifiuti e quindi queste pillole sono la risposta per cercare di portare alle imprese che non sono operatori professionali del settore rifiuto, ma si occupano di altro, molto spesso sono commercianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, distributori in genere e comunque installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle piccole risposte che speriamo possano essere chiare. Per questo io vi do il benvenuto e vi auguro di poter seguire la formazione che abbiamo ideato. Grazie. Benvenuti di nuovo a questo videocorso sui RAI. Guida alla gestione dei RAI. I RAI sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello specifico questo corso è pensato per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica. Staremo indicativamente insieme un'oretta RAI 40 e affronteremo diversi argomenti. Per primo vedremo l'obiettivo della direttiva RAI, cioè per quale motivo esiste una direttiva appositamente creata per questa tipologia di rifiuti. Successivamente vedremo la normativa di riferimento che è stata recepita in Italia, un piccolo cenno, piccoli cenni al sistema di gestione del sistema proprio, del sistema di gestione dei RAI. Il campo di applicazione di questa normativa, perché non è detto che ciò che noi riteniamo essere un rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche effettivamente lo sia. Dopo detto ciò andremo a vedere poi nello specifico cosa dovrebbe fare un produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma soprattutto il distributore, l'installatore e i centri di assistenza tecnica, con un piccolo focus su quelli che sono proprio gli obblighi e gli adempimenti. Una brevissima presentazione del video, una piccola presentazione del video appunto del software Circo la RAE, che è un software creato appositamente da EcoCerve per alleggerire la compilazione dei documenti amministrativi richiesti. E in conclusione finale qualche considerazione che sono sempre utili. Cominciamo subito per cui con gli obiettivi della direttiva sui RAI. I RAI, abbiamo detto, sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Come vedete la prima direttiva? È del 2002, successivamente è stata modificata dalla direttiva 2012 che è tuttora in vigore. Che cosa vuole, qual è lo scopo di questa direttiva? Anzitutto vuole contribuire alla produzione e al consumo sostenibile di queste apparecchiature, di modo tale che attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, possiamo ridurre proprio il volume di questi rifiuti da trattare. In seconda analisi vuole contribuire all'uso efficiente proprio delle risorse, perché per fare per esempio anche questo, che è un puntatore, ci vogliono dei materiali specifici e particolari che vanno, soprattutto si trovano nelle miniere, bisogna scavare, insomma hanno dei costi veramente molto alti. Inoltre, l'ultimo ma non meno importante, contrastare il fenomeno dell'esportazione illegale verso paesi in via di sviluppo, perché diciamo, sono sempre, il volume d'affari che viene fuori da questa gestione illegale, si aggira su 19 miliardi di dollari, sono veramente delle somme importanti e non porta a niente il trasporto illegale se non a crescere la povertà in paese in via di sviluppo. Come dicevo prima, questa direttiva vuole contribuire all'uso efficiente delle materie prime, perché da queste apparecchiature, come vedete, per esempio da un frigorifero, ci sono delle materie prime e seconde che, se opportunamente recuperate, possono dare vita a ulteriori oggetti che noi quotidianamente utilizziamo, come per esempio cerchioni delle auto, lattine, le monetine da 5 centesimi e non ultimo le bottiglie di plastica. Per cui è veramente importante poter recuperare questi rifiuti e destinarli dove la normativa ha pensato che debbano andare. Come possiamo fare per raggiungere tutti questi obiettivi? Beh, non è niente di troppo grave, perché sostanzialmente la normativa ci chiede di recuperare 10 kg di rifiuti, di apparecchiature elettriche ed elettroniche per abitante. Ora, come vedete dalla slide, di fatto dal neonato fino alla persona più anziana, abbiamo sul nostro capo 13 kg di RAI prodotti, il che non vuol dire il cellulare che sto utilizzando, vuol dire proprio qualcosa che noi abbiamo deciso di smettere. Per cui è veramente molto il volume di questi, sono veramente volumi enormi e sono, come potete vedere, sono sempre in crescita, non sono in diminuzione. Per cui è un obiettivo importante da raggiungere, ma come si vede da questo piccolo schema, dal 2018 al 2020, da un 5,14 kg pro capite per anno raccolti, siamo arrivati a un 6,12. Tutto questo senza sapere, se mi permettete, senza sapere né leggere né scrivere, perché come è stato detto precedentemente, non in molti conoscono la corretta gestione di questa normativa. Per cui, ripeto, è un obiettivo importante, ma non è irraggiungibile, basta rimboccarsi le maniche e fare quello che ci dice di fare la normativa. E che cosa ci dice questa normativa? Allora, anzitutto, guardiamo quale è. Come vedete, la primissima, il primissimo decreto legislativo era del 2005, ma è stato abrogato interamente poi da questo di mezzo che vedete, il decreto legislativo 49 del 14 marzo 2014. Nel frattempo sono rimasti in vigore alcuni DM che vedete segnalati qua. Il primo DM del 2007 istituisce gli organi gestionari del sistema, come per esempio gli organi, il controllo di vigilanza oppure il centro di coordinamento dirà. Mentre il secondo è quello, diciamo, che ci interessa forse un pochino più da vicino, ma non meno degli altri, perché il DM numero 65 dispone proprio tutto il regolamento che gira intorno all'uno contro uno, che vedremo dopo di che cosa si tratta. Poi abbiamo la normativa, il decreto 49 del 2014, che recepisce proprio la direttiva, quella del 2012, e, diciamo, riscrive un pochino quelli che sono sostanzialmente gli obblighi in capo al produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e introduce anche il concetto di uno contro zero, che poi viene, come dire, ratificato dal DM numero 121 del 31 maggio del 2016. Bisogna fare attenzione, però, perché quando parliamo di RAE parliamo di rifiuti, di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica o professionale, che sono diversi dai rifiuti speciali, ovvero rifiuti pericolosi o non pericolosi, derivanti dalla propria attività di installazione, manutenzione o assistenza tecnica. Bisogna fare attenzione perché quando io gestisco un RAE devo assolutamente seguire la normativa RAE, cioè il decreto 49 del 2014, mentre se produco un rifiuto speciale, diciamo che mi trovo davanti alla gestione di un rifiuto da manutenzione e lo dovrò gestire col testo unico ambientale, per cui sono due normative che vanno su due binari paralleli e bisogna seguire entrambi a seconda della tipologia di rifiuto che vado a gestire. Mi raccomando, fate attenzione. Adesso vedremo proprio brevemente decenni al sistema di gestione. È importante perché, diciamo, quello che è cambiato maggiormente negli anni è proprio l'impegno che viene, diciamo, che viene dall'attenzione posta a tutto il sistema dei RAE che va proprio dal produttore fino alla fine al trattamento in un impianto e nel mezzo ci siete anche voi distributori installatori e sono migliorate le condizioni ambientali proprio di tutti questi soggetti che si trovano all'interno di questo sistema. È importante conoscere questi organi gestionali. È importante per voi proprio perché vi aiutano a capire dove dovete andare e come potete fare la vostra attività in tranquillità. Anzitutto esiste il registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che è il registro dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione, ovvero un produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica per poter immettere sul mercato il cellulare, la lavatrice, il telefono, la macchina, la macchina da scrivere no perché non è elettrica ed elettronica però il computer o che ne so il condizionatore deve assolutamente registrarsi al registro delle AEE. Deve comunicare il quantitativo che intende immettere sul mercato e in base a quello che immette dovrà poi dare evidenza di come intende poi raccogliere il rifiuto che lui stesso produce perché in questo caso il produttore di apparecchiature elettriche ed elettronica si deve proprio occupare anche della raccolta del fine vita di questo rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronica. Oltre a questo abbiamo il centro di coordinamento dei RAE che ha un grande aiuto per imprese, impianti e produttori anche e ottimizza le attività di competenza dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi sono attualmente 13 e sono coloro che a seconda della tipologia di apparecchiature elettriche ed elettroniche girano in tutta Italia per raccogliere proprio questi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e su incarico del centro di coordinamento RAE che diciamo coordina appunto e gestisce che la raccolta venga effettuata in maniera omogenea. I sistemi collettivi sono finanziati proprio dagli stessi produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Importante è conoscere l'albo gestori ambientali, è l'albo delle imprese che gestiscono i rifiuti, qualsiasi tipo di rifiuto ecco, è entrato in vigore nel 2014 e ogni impresa che intende gestire, trasportare o fare intermediazione ai rifiuti deve necessariamente iscriversi all'albo nazionale di gestione ambientale. Questi sono proprio i tre organi importanti che dovete tenere presente. Anche abbiamo il comitato di vigilanza e controllo che gestisce diciamo proprio il registro nazionale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e controlla bene il volume dei RAI che vengono raccolti o che vengono immesse e fornisce quel dato che abbiamo visto prima, quel 6,14 di raccolta effettuata. E quel numero viene poi comunicato all'Unione Europea e in base o meno al raggiungimento dell'obiettivo veniamo o meno sanzionati. Per cui è importante tenere d'occhio questi numeri e diciamo fare del nostro meglio affinché questa questa asticella cresca. I sistemi collettivi ve l'ho detto prima sono 13 e si occupano proprio di gestire il trasporto, il trattamento e il recupero dei RAI. Poi abbiamo il comitato di indirizzo sulla gestione dei RAI che diciamo supporta il comitato di vigilanza e controllo e monitora tutte le varie operazioni. Sempre in base agli accordi che ci sono fra il centro di coordinamento dei RAI perché il centro di coordinamento come dire stipula degli accordi con ANCI che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Toscani per quel che riguarda i centri di raccolta, i centri di raccolta comunali cioè stipula degli accordi per vedere il quantitativo che possono andare a ritirare e in base a determinate tonnellate che raccolgono danno in cambio un premio diciamo produzione detto male un premio di efficienza si chiama che va in base alle tonnellate prodotte può variare dai 50 euro in sua tonnellata a seconda della tipologia di rifiuto che viene raccolta e sono molto importanti perché il centro di centro di coordinamento RAI appunto fa questi accordi con i centri di raccolta comunale ma anche con la grande distribuzione ma anche come vediamo qui li fa anche con voi installatori con i centri di assistenza tecnica e di punti vendita perché anche voi potete essere serviti in maniera diretta proprio dai sistemi collettivi e venire a seconda del quantitativo che raccogliete di RAI potete avvalervi dei loro servizi e ripeto a seconda del quantitativo avere in cambio euro per tonnellate per cui è importante sapere proprio dove poter conferire questi RAI e in che modo abbiamo qui centri di raccolta che possono essere gestiti dai comuni o comunque proprio anche dalle aziende abilitate alla gestione dei RAI dove vengono per lo più come dire destinate ai RAI domestici che i cittadini e alcune imprese possono portare lì. I luoghi di raggruppamento li vedremo più avanti, il distributore, l'installatore che ha un luogo specifico all'interno del suo negozio dove poter raccogliere o accogliere meglio i rifiuti che provengono dall'uno contro uno. Grandi utilizzatori sono per esempio ospedali, caserme, aeroporti che hanno dei grandi quantitativi di RAI riferiti per esempio a R4 e R5. R5 per esempio sono le lampadine. Ecco anche questi hanno un ritiro diretto da parte dei sistemi collettivi. Poi abbiamo voi installatori, distributori, centri di assistenza tecnica e punti vendita che vedremo più avanti. Infine ultimi impianti di trattamento sono ovviamente le aziende che svolgono un'attività di stoccaggio o trattamento per il riciclaggio, recupero, molto importante e come abbiamo visto prima valorizzazione dei materiali perché ripeto all'interno di queste apparecchiature troviamo rame, oro, terre rare. Dei materiali che veramente scostano sangue e sudore per poterli raccogliere non sono infiniti e oltretutto in Europa non ne abbiamo granché di questi materiali per cui affrancarsi anche un po' da quelle che sono le dipendenze di altri stati per queste tipologie di materie diciamo è un vantaggio per tutti quanti. Passato, finito questa parte un pochino forse più noiosa però comunque importante andiamo a vedere il campo di applicazione perché come vi dicevo prima non tutto quello che noi riteniamo essere un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronica o un'apparecchiatura elettrica ed elettronica di fatto lo è. Perché? Bisogna sapere innanzitutto che la normativa si applica al rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronica quando diciamo il cittadino acquista una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica sicché il campo di applicazione funziona nel caso dell'uno contro uno appunto come vi dicevo o dell'uno contro zero per cui per forza bisogna che ci sia un'apparecchiatura che io vendo o che metto a disposizione e ci deve essere dall'altra parte il cittadino o il cliente o quello che volete insomma con cui vi interfacciate che voglia darvi il rifiuto di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica che sia equivalente ovvero compra un frigo e mi rende indietro il frigo usato oppure vuole cambiare il condizionatore e mi ridà un condizionatore cellulare per cellulare sicché il campo di applicazione è questo appunto mi dà un condizionatore vecchio che si chiama rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica e io gliene do uno nuovo per cui anzitutto il campo di applicazione è questo non è a caso che io prendo quello che mi pare non funziona così tranne che per l'uno contro zero ma sono apparecchiature piccolissime massimo 25x25 sicché possiamo avere questo il telecomando il mouse oggetti di questo tipo bene per esempio anche con le stampanti ma che cos'è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica guardiamo bene cosa ci dice la definizione la definizione dell'articolo 4 lo vedete in basso comma 1 lettera a del decreto legislativo 49 del 2014 questa definizione ci dice che le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono apparecchiature che dipendono attenzione dipendono per un corretto funzionamento da corrente elettrico da campi elettromagnetici apparecchiature di generazione trasferimento misurazione di queste correnti e campi progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata o 1500 per quella continua beh in sostanza una grande cosa per dire che cosa anzitutto che apparecchiatura è un insieme può essere un oggetto singolo comunque un insieme di apparati o un set di dispositivi che mi servono per una funzione specifica e è fondamentale che questo oggetto sia dipendente dalla elettricità come energia primaria perché se non c'è l'elettricità non è possibile considerarla un apparecchiature elettriche ed elettronica facciamo un esempio guardiamo questa caldaia è una caldaia a gas secondo voi questa caldaia è o non è un apparecchiature elettriche ed elettronica questa non è un apparecchiature elettriche ed elettronica perché io ce l'avevo in casa non so probabilmente ce l'avevate anche voi quelli un pochino più agei quelli un pochino più anziani come me e bastava se si staccava la luce bastava andare con un accendino sulla fiammella del gas e la caldaia riprendeva a funzionare per cui potevo tranquillamente riscaldarmi col termosipone o avere l'acqua calda altro discorso ovviamente sono le caldaie di nuova generazione che ovviamente se con tutte queste schede elettroniche si stacco la corrente è finita e se è inverno sto al freddo e al gelo ecco ma questa caldaia gas che non dipende dall'elettricità dalla corrente elettrica per funzionare non è un apparecchiature elettriche ed elettronica non rientra nel campo di applicazione per cui io non dovrò fare uno contro uno se la signora lucia mi rende questa caldaia io non sono tenuto a ritirarla nel caso lei le compri una nuova perché questa qui non è un apparecchiature elettriche ed elettronica facciamo un altro esempio questo qui è una prolunga avvolgicavo è o non è secondo voi un apparecchiature elettriche ed elettronica questa prolunga la sua funzione è di portare l'energia elettrica da a a b per esempio il phon per asciugarmi i capelli un po' lungo il cavo però chi lo sa e se la attacco alla presa e dall'altra parte a un phon certamente la corrente è necessaria per far sì che la sua funzione di portare l'energia da la corrente pardon da a b è indispensabile per cui questa prolunga avvolgicavo è un apparecchiature elettriche ed elettronica e rientra nel campo di applicazione per cui potrò fare la ritiro modalità uno contro uno attenzione perché se avete qualche dubbio in merito ovvero ho in mano questo che cos'è un apparecchiature elettriche ed elettronica oppure no c'è questo simbolo che è il simbolo proprio del RAE rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettronica con bidoncino sbarrato che mi dice guarda questo è certamente un rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettronica è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica e non lo devo assolutamente buttare nell'indifferenziato o non lo devo rovesciare in mezzo di strada o non lo devo tirare giù dalla scarpata ma ha una gestione posto che non bisogna farla prescindere nemmeno con altre tipologie di rifiuti ma questo ci indica che è appunto un apparecchiature elettrica ed elettronica il suo rifiuto va gestito secondo la normativa 49 del 2014. Non è finita qui perché non tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientrano in questo campo di applicazione sono queste sei che sono in vigore dal 15 agosto del 2018 prima vi ricordate c'era erano dieci adesso sono diventate sei con vi ricordate c'è stato un periodo si chiama si chiamava open scope ecco l'open scope è questo ovvero sei categorie in cui diciamo possiamo considerare la gestione e il campo di applicazione per quelle tipologie che rientrano in queste sei e quali sono apparecchiature per lo scambio di temperatura schermi monitor con una superficie superiore non superiore a 100 centimetri cubi delle lampade in questo caso le lampade sono non a incandescenza e poi il 4 e il 5 ci danno delle apparecchiature diciamo generiche con un criterio dimensionale sicché o maggiore di 50 centimetri o inferiori a 50 centimetri in fondo il numero 6 raccoglie diciamo tutte le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni purché anche lì non superiori a 50 centimetri che per dire la parabola sul tetto certamente quelle norme che vediamo adesso che sono sicuramente superiore a 50 centimetri non rientrano nel campo di applicazioni non faccio l'uno contro uno con queste il 4 e il 5 sono molto come dire lasciano spazio perché ad oggi sono sempre di più le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove di cui non abbiamo idea no andranno nella 1 prima era il criterio delle 10 precedente all'open scope erano diciamo segnalate in base a un criterio merceologico adesso abbiamo un criterio dimensionale per cui qualsiasi diciamo qualsiasi apparecchiatura di fatto può trovare una sua posizione in queste sei categorie perché se non è un per lo scambio della temperatura se non è uno schermo se non è una lampada o se non è un'apparecchiatura informatica io dovrò solo stabilire la grandezza per cui se è ora questo no perché è un rientra nella 6 questo ma se per esempio ho un overborder o un monopattino elettrico un certo prima non sapevo prima dell'open scope non avevo idea di in quale categoria poterlo inserire adesso sì perché se è superiore a 50 centimetri lo metto al numero 4 se invece ha una dimensione più piccolina di 50 centimetri rientra nella categoria numero 5 per cui diciamo la vita un po' ci insomma sia un po' addolcita diciamo così ovviamente la normativa cioè questo campo di applicazione si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in queste sei e certamente non si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in queste dieci categorie se le potete leggere anche da insomma da voi non è niente di di astruso o di troppo complicato posso fare un appunto per esempio sul numero 2 che ci dice sono apparecchiature progettate installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione per fare un esempio se voi pensate alle al tom tom come si chiama al gps che è già installato nell'auto nelle automobili ora ce l'hanno tutti l'auto di per sé non è un rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettronica e il navigatore è stato appositamente progettato per essere installato in quell'autovettura per cui esce dal campo di applicazione non lo gestisco come uno contro uno uno contro zero un altro esempio può essere vabbè apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio sarebbe bellissimo poter fare uno contro uno con un satellite spaziale ma non si può per cui è anche quella tipologia di applicature elettriche ed elettroniche non ci facciamo l'uno contro uno le installazioni fisse di grande dimensione per esempio potrebbero essere gli impianti di risalita delle delle stazioni stridistiche oppure i nastri trasportatori dei dei bagagli degli aeroporti ecco quelle sono proprio installazioni appositamente per essere progettato per quello spazio oppure guardiamo il numero 7 i mezzi di trasporto di persone o di merci sono escluse dal campo di applicazione ovviamente i veicoli elettrici non omologati a due ruote che sono per esempio le biciclette elettriche gli overbordi monopattini e tutte queste cose qui che hanno due ruote e non sono omologati e sono elettrici quelli ovviamente rientrano nel campo di applicazione l'ultima la guardiamo insieme perché anche questa può essere un pochino come dice ci può un po confondere i dispositivi medici o medici o dispositivi medico diagnostici purché nel caso in cui vi sia rischio di infezione per fare un esempio se io ho un pacemaker che dismetto dal cuore di un paziente e li andiamo a mettere un altro non ci faccio uno contro uno nell'uno contro zero perché è un dispositivo infetto per cui ha tutta un'altra strada è un rifiuto speciale sanitario in alcuni casi per cui la strada sua è un'altra non è certo quella del campo di applicazione del 49 2014 mentre per esempio il dispositivo quello che misura l'insulina ha una piccola parte tipo questo che è la parte elettrica ed elettronica è un aghetto la parte infetta è l'aghetto per cui gettato via l'aghetto dove deve andare secondo la normativa sui rifiuti questo che mi rimane è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica e in questo caso viene gestita proprio all'interno del decreto legislativo 49 2014. Bene abbiamo visto che cos'è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica deve dipendere dall'elettricità dalla corrente elettrica e deve per poter fare l'uno contro uno l'uno contro zero deve rientrare certamente nelle sei categorie di A e E mentre queste dieci che vediamo non rientrano e non lo gestisco con l'uno contro uno. Vediamo a questo punto poiché la normativa si applica ai rifiuti di queste apparecchiature elettriche ed elettroniche vediamo che cos'è un RAE. Allora qui ci dice sempre l'articolo 4 che i RAE sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il detentore intende a disfarsi in quanto guaste inutilizzate o obsolete e che senza della normativa ambientale si ritengono rifiuti inclusi bisogna fare attenzione qui sottolineato perché inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto quando si assume la decisione di disfarsene. Ora qui che l'apparecchiatura che il rifiuto funzioni o non funzioni non come dire non è determinante perché se io mi voglio anche se ho un computer bellissimo ma così sono un po' naive e lo voglio cambiare prendere uno nuovo lo posso fare però nel momento in cui io ho deciso di darlo via in quel momento stesso diventa rifiuto e con un rifiuto non posso aprire, smontare, fare quello che voglio qui il rifiuto va gestito tutto per intero così come mi viene consegnato perché proprio tutti i componenti inclusi e materiali di consumo sono questo rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un esempio, la lavatrice, la lavatrice non è tutta composta da meccanismi elettronici, è un insieme però di componenti che servono allo scopo di lavare i panni al posto nostro. Bene, per cui tutto questo è un RAE, non ci posso levare l'oblò, non ci posso levare che ne so la cinghia se mi serve, così me lo consegnano e così io lo porto al centro di raccolta comunale. E' importante questo perché quando c'è appunto, spesso si lasciano frigoriferi, soprattutto i frigoriferi per strada vengono cannibalizzati, gli viene levato di tutto e a quel punto non è più possibile recuperare i materiali che abbiamo visto prima, che poi servono, sono materie prime e seconde che possono essere molto utili per creare nuove oggetti per cui è importantissimo che se così ci danno un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, così la dobbiamo portare al centro di raccolta comunale o all'impianto indicato. Attenzione, perché? Questo è una cosa utile per gli installatori e i manutentori. I componenti messi sul mercato separatamente per essere utilizzati per fabbricare o per riparare un'apparecchiatura elettrica ed elettronica non rientrano nel campo di applicazione, cioè sono proprio fuori dalla normativa, a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente. Sembra più complicato di fatto di quello che è. Guardiamo infatti, questo è un piccolo schema decisionale, diciamo così, che trovate, vedete qui in fondo c'è indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione aperto. È un libriccino, 23 pagine, ma molto utile, a cura del Ministero dell'Ambiente e del Comitato di Vigilanza e Controllo. Scaricatelo, leggetelo, perché vi aiuta proprio anche a capire che cosa tante volte avete in mano e dove lo dovete in qualche modo destinare. Guardiamo sui componenti. Questo qui è un hard disk. Secondo voi che cos'è? È un'apparecchiatura elettrica ed elettronica? Sì, perché c'è bisogno di... È un insieme di... Insomma, un insieme di apparati che servono per far girare il mio computer. L'ho detto semplice, ma perché non sono tanto esperta in materia di computer. Comunque, dipende per il corretto funzionamento da corrente elettrica? Direi di sì, perché da solo questo me ne faccio poco, non mi fa niente. È un componente di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica? Sì, è il componente del mio PC. Allora, se è un componente del mio PC, vado nella casellina rossa, dove c'è scritto sì. Un'altra domanda mi fa, ha una funzione autonoma diversa da quella per la fabbricazione o della riparazione di una E? Direi di no, perché io questo qui a casa mia, io Sara, non me ne fò di niente. Cioè, non saprei proprio... dovrei smontare. È proprio un hard disk che serve per la fabbricazione del mio computer o per sostituirlo. Bene, secondo quanto abbiamo visto prima, è un componente. Per cui è un componente per riparare magari il mio computer, per cui è fuori dal campo di applicazione della mia normativa e lo gestisco come, in questo caso, un rifiuto della manutenzione e, come mi dice, di gestire il testo unico ambientale. Questo stesso hard disk, invece, che è esterno, è tutta un'altra cosa, perché sicuramente è un'apparecchiatura, sicuramente dipende dalla corrente elettrica, ma non è un componente di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, perché io lo posso attaccare a qualsiasi PC, non è, diciamo, all'interno del mio PC, ma è all'esterno, lo posso attaccare alla televisione, lo posso attaccare alla macchina fotografica e ha una funzione indipendente, per cui in questo caso è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica che rientra nel campo di applicazione o lo gestirò, come mi dice il decreto 49 del 2014. Vi lascio qualche altra domanda, così, punto interrogativo, secondo voi, la scheda della caldaia, che cosa può essere, o l'unità interna del condizionatore split. Queste due cose sono, come abbiamo visto prima, qui ve lo faccio rivedere, sono dei componenti messi sul mercato, proprio per essere utilizzati, per riparare o proprio per fabbricare, per cui caldaia e con l'unità interna, la scheda, perdono, della caldaia e l'unità interna del condizionatore split, non rientrano nel campo di applicazione, li gestisco come rifiuti speciali. Adesso vediamo che cos'è un RAE domestico, un RAE professionale, un RAE dual use e un RAE equivalente, perché la normativa sui RAE ha delle definizioni sue specifiche, infatti non vedremo qui un rifiuto speciale o un rifiuto urbano, ma come definizione vedremo queste. Un RAE domestico è definito così, cioè un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronica originato da un nucleo domestico o originato da, per esempio, un ufficio oppure un luogo di origine commerciale, istituzionale, che per tipologia e per natura può essere simile, analogo a quello originato da un nucleo domestico. In ogni caso, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da quelli non domestici o da utilizzatori diversi, sono in ogni caso da considerarsi dei RAE provenienti dai nuclei domestici e in questo caso si chiamano appunto RAE dual use, come dice sotto la definizione i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi. La definizione di RAE professionale è molto semplice, ci dice che sono quei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ovviamente diversi da quelli prodotti dai nuclei domestici. Attenzione perché i RAE professionali sono destinate agli impianti di trattamento che mi ha segnalato il produttore dell'apparecchiature elettriche ed elettroniche perché, come vi ho detto in anticipo, è il produttore che paga la gestione del rifiuto fino al suo trattamento per recuperare appunto le materie prime e seconde e per cui è lui che sa dove deve andare quel rifiuto perché ha dato delle specifiche informazioni all'impianto per smantellare al meglio possibile quel rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attenzione perché i RAE professionali li posso gestire solo se ho l'incarico formale del produttore di questa apparecchiatura elettrica ed elettronica. I RAE equivalenti abbiamo visto sono quei RAE che diciamo hanno la stessa funzione. Frigorifero, frigorifero, lavastoviglie, lavastoviglie. Come possiamo inquadrare meglio la differenza tra un RAE domestico e un RAE professionale. Allora, la differenza riguarda unicamente la tipologia di apparecchiatura elettrica ed elettronica e non tanto la sua provenienza. Mi spiego meglio. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali sono quelle proprio progettate per essere utilizzate con delle caratteristiche tecnico funzionali specifiche per cui proprio già a monte il produttore le ha pensate come professionali, cioè le ha pensate per avere delle funzioni diverse, cioè analoghe, ma diverse dalle funzioni che potrebbe avere un'apparecchiatura elettrica ed elettronica domestica. Inoltre, la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche, diciamo, hanno dei canali distributivi abbastanza chiari, cioè io posso andare dalla, senza fare pubblicità, però alla MediaWorld, a Eco, come si chiama, Unieuro, Euronix, Troni, tutti quelli che volete, ma lì ci troverò certamente delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che può utilizzare un'utenza domestica. Non ci troverò il banco frigo del gelataio, faccio per dire. Inoltre, le apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali, sempre per aiutare a capire la differenza, hanno un contratto, cioè tra il produttore dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica e il venditore, esiste un contratto specifico in cui viene spiegato proprio tutto il processo di gestione del rifiuto e al suo, insomma, il fine vita di questo rifiuto e c'è proprio specificato il contributo che viene messo a disposizione da parte del produttore proprio per il destino di questo Rai, per chiarirsi meglio. Dunque, queste qui sono delle lavatrici che sicuramente troverò a casa mia, perché massimo 7, non so se ci sono anche da 10 chili, non mi ricordo, però a casa mia, anche se è una famiglia numerosa, più di 10 chili, ne farò un pochino di più, insomma, e questo è certamente un Rai domestico. Io decido, io Sara decido di dare la mia vecchia lavatrice perché ne voglio acquistare una nuova e tra di loro ovviamente sono equivalenti perché hanno la stessa funzione e così rientrano entrambi nel campo di applicazioni come Rai domestici e viene effettuato l'uno contro uno. Questa, secondo voi, può essere definito un Rai domestico. Questa è una lavatrice che serve, per esempio, per gli hotel, per i ristoranti e ha delle caratteristiche tecnico-funzionali certamente diverse dalla mia lavatrice che mi voglio mettere in casa, oltre al fatto che un bidone così grosso non mi ci sta in casa e nemmeno lo vorrei. Per cui questo sicuramente è un Rai professionale, mentre questi due sono sicuramente dei Rai domestici. La differenza tra questi due, cioè la differenza, guardiamo che cos'è un Rai dual use. Questi sono dei Rai dual use, perché? Come tanti altri, perché faccio l'esempio della stampante. La stampante, io si do quella vecchia, mi prendo quella nuova, ma la posso trovare sia a casa mia ma anche in ufficio. Per esempio, nel nostro ufficio abbiamo una stampante di questo genere, come in altri uffici, suppongo, anche voi li avrete nei vostri uffici del personale, insomma, amministrativi. Queste si chiamano dual use, proprio perché possono essere utilizzate sia da un'utenza domestica che da un'utenza non domestica, ma che è analogo per tipologia e funzionalità a un Rai domestico. Per cui, ripeto, si considerano comunque domestici, ma prendono il nome di Rai dual use. Questa invece, certamente, anche questa io non me la metto in casa, perché è ingombrante, è grande, e ha delle caratteristiche tecnico-funzionali che non si confanno alla mia attività, insomma, in casa non me ne fò di niente in una cosa così, mentre potrebbe essere molto utile a una copisteria, per esempio. E questo per cui, poiché ha delle caratteristiche tecnico-funzionali specifiche per stampare, fare determinate stampe in grande quantità, è certamente un Rai professionale, per cui dual use, professionale. L'ultimo esempio faccio, poi vi lascio in pace, l'abbiamo sui condizionatori. Questi qui, secondo voi, sono Rai domestici, Rai dual use, Rai professionali, cosa pensate che siano? Dove li posso trovare? Li posso trovare a casa mia? Sì. Li posso trovare nell'ufficio amministrativo della mia impresa? Sì. Per cui questi saranno dei Rai dual use. Mentre questo, certamente, che è un impianto di areazione, riscaldamento, raffreddamento abbastanza specifico, con delle caratteristiche tecnico-funzionali specifiche per un'utenza professionale, è sicuramente un Rai professionale. Bene, detto questo, se avete ancora dubbi, ripeto, andate sempre a vedere a monte l'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Come l'ha pensata il produttore? Se era per noi, utenti, non lo so, cittadini, nell'ufficio, oppure se l'ha pensata proprio per un'attività diversa, un'attività professionale. Quando poi dopo io ho un rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica, è importante che lo suddivida in questi cinque raggruppamenti, che servono proprio per ottimizzare la logistica, ma soprattutto il trattamento di questa tipologia di rifiuto. E vediamo, in R1, freddo e clima. R2, grandi bianchi, sono lavatrici, lavastovigli, forni, cappe, cose così. R3, sono apparecchi con schermi, dal tablet al computer alla televisione. R4, elettronica di consumo, tutti quegli oggetti grandi e piccoli di uso quotidiano, ormai, di cui non possiamo fare a meno. E R5, proprio un raggruppamento a parte per le sorgenti luminose, perché effettivamente sono tantissime. È importante suddividere in questi cinque raggruppamenti, perché, vi dicevo, il trattamento è analogo per tipologia, per cui, per esempio, in R1 bisognerà prima eliminare il liquido refrigerante, oppure negli apparecchi con schermi, ci sono schermi con tubo catodico, LCD, però hanno, diciamo, delle tipologie di trattamento analoghi. Facciamo attenzione perché R1, R3 ed R5 sono considerati dei rifiuti pericolosi, perché contengono, appunto, delle sostanze classificate come pericolose e vanno assolutamente gestiti in maniera conforme alla normativa, altrimenti si va proprio sul penale. E che cosa mi dice la normativa? Mi dice di dividere i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, per cui, se avrò un condizionatore e una lavastoviglie, la lavastoviglie la metto da una parte, il condizionatore lo separo dal resto dei rifiuti. Mi raccomando, rifiuti pericolosi da una parte, quelli non pericolosi dall'altra.